Altavilla Vicentina, furto aggravato in via Torino nell'abitazione di un pensionato settantenne. I gnoti si sono introdotti in casa nel pomeriggio di lunedì razziando contanti per oltre 12 mila euro e prelevando numerosi monili in oro. I ladri inoltre hanno sottratto due pistole che l'anziano proprietario deteneva nei cassetti del Comò ai lati del letto, una automatica calibro 9 SIG Sauer e un revolver calibro 38 Franchi che il pensionato aveva regolarmente denunciato ma che sembra non fossero ermeticamente custodite. Per questo potrebbe scattare una denuncia penale per omessa custodia delle armi.